Al nuovo presidente dell'Aido di Albino, Fausto Morotti, chiediamo di sottolineare i contenuti e le attività che il nuovo direttivo intende sviluppare nei prossimi mesi. Dunque, buonasera a tutti. Parliamo di Aido, appunto Associazione Italiana Donatori e Organi. Le nostre aspettative sono quelle di portare il numero degli iscritti nel paese di Albino a mille a mille. Bisogna ricordare a tutti che le iscrizioni sono sempre aperte e vorrei ricordare che, come si è potuto leggere sui quotidiani di Bergamo, gli ospedali riuniti hanno raggiunto la quota a mille trapianti di fegato. Questo ci inorgoglisce e ci dà la spinta per proseguire su questo cammino. Anche perché di questi mille trapianti di fegato vorrei ricordare che 500 sono pediatrici, cioè riguardano i bambini. Un sistema per aiutare l'Aido sarebbe quello di devolvere il 5 per mille a questa associazione. Il numero dell'associazione è 823 51 01 69. Vi ringrazio tutti e ringrazio in particolare Antenna 2 perché mi dà questa opportunità di ricordare a tutti voi che l'adesione a questa associazione è fondamentale per far sì che domani tutti abbiano l'opportunità, una seconda opportunità di vita. Quali sono le attività che voi intendete perseguire nei prossimi mesi? Allora nei prossimi mesi sicuramente a luglio, quando ci sarà lo Shopping Festival, faremo una raccolta di fondi. Dunque ci troverete nella città di Albino, qua di fronte al comune, dove faremo appunto una raccolta di fondi. Chi volesse donare anche solo un euro per noi va sempre bene. E poi siamo sempre aperti in via Mazzini, dove c'è la nostra sede, per appunto chi volesse iscriversi all'associazione Aido. Come risponde la cittadinanza a vostre richieste di aiuto, possiamo dire in parole povere? Beh, non si può dire come risponde perché la gente è presa dai propri grattacapi, dunque non è facile ascoltare queste richieste o richieste di associazioni come la nostra. Però io vi ringrazio ancora una volta perché dall'altra volta che abbiamo fatto l'intervista, abbiamo parlato, tanti si sono interessati, tanti mi hanno chiesto e tanti mi aiutano a andare avanti e mi sostengono in questo cammino. Lei ha detto che volete perseguire il numero di mille, attualmente quanti siete? Siamo 850, per la fine dell'anno vorremmo arrivare a mille iscritti.